Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Iva Gamesport Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video dove andiamo a fare i pronostici per la trentesima giornata di Serie A Dopo la sosta delle nazionali dove si sono infortunati ragazzoli tantissimi calciatori Adesso andiamo a fare il punto della situazione ma soprattutto andiamo a fare questi pronostici per la trentesima giornata di Serie A Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti Iscrivetevi e mettete la campanella quanto pubblico il video e vi si monta una fila e una notifica e basta premere subito nella notifica E siete subito qui all'interno del mio contenuto Tutti i video su Iva Gamesport escono tutti i giorni Allora ti pranzo alle ore 13 e tutti gli shorts su notizie di calcio e mercato post partite News sul mondo del calcio e non solo ma anche sul tennis che mi sta passando un sacco negli ultimi mesi Trovate tutte le cose, tutte le cose negli shorts che escono tutti i giorni sempre qui su Iva Gamesport Dalle ore 10 alle ore 19 di pomeriggio Partiamo immediatamente ragazzoli con la primissima partita di Serie A Della trentesima giornata di Serie A che si apre col botto con un big match di giornata Purtroppo ancora ha problemi un po' alla voce quindi potreste vedermi un po' sofferente Nel mentre che parlo un po' di mal di gola Con un big match tra Napoli contro Atalanta Che entrambe hanno perso due giocatori Due giocatori molto molto importanti Che non dovrebbero partire da titolari Che sono per il Napoli Cavalascheglia E per l'Atalanta Cup Miners Che entrambi stanno giocando veramente benissimo in quest'ultimo periodo Quindi vediamo un po' se entrambi giocheranno o meno da titolari E ho un pronostico in mente per questa partita Che potrebbe ovviamente Spero un attimo Non giocherà neanche De Ketalaer da titolare Vediamo se E infatti perché si è fortunato pure De Ketalaer nell'Atalanta Infatti non giocherà neanche da titolare neanche lui Questa qua me l'ero persa non so perché Io vi dico che qui vincerà il Napoli Soprattutto perché non ci sono tanti giocatori da parte dell'Atalanta Ma soprattutto perché il Napoli nell'ultimo periodo è molto molto in forma Soprattutto anche dopo l'ultimo pareggio nell'ultima giornata Prima della sosta contro l'Inter 1-1 a San Siro E soprattutto anche perché il Napoli è in casa Quindi vi dico 1x per il Napoli E attenzione perché il Napoli potrebbe seriamente andare a vincere questa partita E sarebbe molto molto comodo anche per il Bologna Per la zona Champions Partita delle ore 15 Invece del Ah ma no scusatemi 12.30 Il Napoli è alle 12.30 di sabato Mi sono rincoglionito Perché praticamente non si giocherà venerdì Ma si giocherà solo sabato e lunedì Andrambi da 12.30 a doppio 15 18.20 e 45 E alle 12.30 proprio ci sarà Napoli contro Atalanta Poi passiamo alle ore 15 sempre di sabato Con Genova Frosinone che sarà una partita secondo me abbastanza molto molto movimentata Soprattutto nel Genova che l'ha detto molto favorita in questa partita Perché se non è avuto uno stop Un calo evidente Evidentissimo perché ragazzi sta facendo molto molto male nelle ultime partite Io vi dico che qui ovviamente vincerà secondo me il Genova Perché si trova in casa Ma anche perché ai due attaccanti Gudrunson e Retechi sono on fire L'abbiamo visto con le loro nazionali Soprattutto Retechi Dove ha segnato il gol decisivo Anzi vi ricordo che ha fatto il gol decisivo contro il Venezuela Contro il Venezuela E soprattutto Gudrunson ha fatto 4 gol in due partite Per la qualificazione della sua Islanda Che purtroppo è stata eliminata contro l'Ucraina E dove in una singola partita Gudrunson ha fatto la bellissima tripletta all'Israele E un gol nella finalissima contro l'Ucraina Quindi favoritissima il Genova Altra partita dalle ore 15 per sabato Io ragazzi lì qua vi straconsiglio Che secondo me andrà a vincere il Torino Perché la partita è il Torino contro Monza Attenzione perché il Torino è in casa È vero E dovrebbe giocare con la squadra titolare al massimo delle forze Dovrebbero essere anche i suoi giocatori Per attenzione al Monza Che potrebbe fare veramente anche loro una bella partita Visto il trio d'attacco che ormai si sta distinguendo Rispetto a tutti gli altri attacchi Con Colpani, Mota, Maldini e Diulici Che stanno facendo veramente molto molto bene In Porta c'è un Di Gregorio che è uno dei portieri Dei migliori di questa stagione in Serie A Il Torino sta facendo anche loro molto bene Potrebbe starci anche un pareggio in questa partita Altro big match invece è questo qui alle ore 18 di sabato sera Ed è Mila... Sì, scusate Del Lazio contro Juventus Io qui vedo leggermente favorita la Lazio Soprattutto per il bruttissimo periodo che sta passando la Juventus Non sta passando un buon periodo neanche la Lazio Visto che non ci avrà neanche il primo portiere Provedere ma ci avrà Mandas Ma sarà la prima partita dove in panchina ci sarà Tudor E la Juventus ha assenti due calciatori importantissimi Uno è Blauvic e l'altro dovrebbe essere anche Kostic Che ovviamente è meno importante rispetto a Blauvic Ma che comunque il suo l'ha portato fino ad oggi Squalificato Blauvic che salterà questa partita Salterà la partita anche Milik in attacco Praticamente coppia d'attacco forzata Che Kinn è chiesa Ma attenzione che potrebbe prendersi anche nei primi minuti Al posto di Kinn potrebbe esserci senza problemi anche Ildiz Però qui vi dico ragazzoli che col nuovo modulo La Lazio potrebbe veramente mettere in difficoltà la Juventus E quindi vi dico forse vittoria della Lazio Attenzione perché all'Olimpico può succedere di tutto Ultima partita invece di sabato sera Fiorentina contro Milan Bellissima partita ne sono sicuro Che qui sfonderà una bellissima partita Milan che è leggermente favorito Perché ha tutti i titolari Tranne un po' Malik Chao che potrebbe stare male Potrebbe praticamente giocare nei primi minuti Forse gabbia Ma ancora non è detto nulla Però alla fine la squadra c'è C'è anche la squadra ovviamente della Fiorentina Che forse Forse dico forse ha perso un pochettino Non sarà che si è fatto male durante qualche allenamento Ma nulla di grave realmente Vi dico che qui è favorito in Milan Vi dico anche un 2 fisso Ma attenzione che la Fiorentina La Fiorentina che tu scusa È molto molto forte in casa Soprattutto dopo l'addio Purtroppo a Barone Devono ritornare veramente a fare punti Bologna contro Salenitana Qui la vedo ragazzoli Una nettissima vittoria per il Bologna Anzi spero che vinca nettissimamente il Bologna Dopo che sperando che l'Atalanta non faccia punti contro il Napoli Potrebbero avanzare ancora di più nella classifica E prendere sempre più consapevolezza e punti Per andare il prossimo anno in Champions League Vi dico che qui il Bologna andrà a vincere Passiamo all'altra partita delle ore 15 Anche questa di lunedì Perché vi ricordo che la domenica non si giocherà Perché è Pasqua Si giocherà invece a Pasquetta Alle ore 15 Cagliari contro Elas Verona Vedo leggermente favorito in questo caso Il Cagliari per Cernieri è molto molto forte Quando gioca in casa E non la vedo sfavorita per niente Anzi tutt'altro il Verona Però la vedo leggermente come detto favorita Un po' il Cagliari Che potrebbe addirittura Potrebbe addirittura vincere anche questa partita Secondo me anche senza troppi problemi Se alla fine si mette sul verso giusto Partita sempre delle ore 15 Quindi ce ne sono in totale 2 Ed è Sassuolo contro Udinese Dove secondo me l'Udinese Ragazzuoli potrebbe veramente Perdere qualche punto In questa partita Sassuolo deve andarsi a riprendere Dopo che sta facendo una bruttissima stagione Alla prima ultima posizione Deve prendere punti su punti Defrel dovrebbe partire a idolare in questa partita Quindi tre attaccanti praticamente Tutti assiemi Defrel, Laurentè e Pinamonti Ovviamente ricordo il Sassuolo Che senza Berardi Che ha finito il campionato Sassuolo che deve andare a prendere punti Udinese che comunque è messa abbastanza bene Quindi vi posso dire Che secondo me il Sassuolo Questa partita l'andrà a vincere Soprattutto perché si trova anche loro in casa Lecce contro Roma Alle ore 18 Sempre di lunedì Qui vedo ovviamente nettissimamente In vantaggio alla Roma Che sta prendendo un ottimo campionato Al momento Da quando è arrivato nella panchina Daniele De Rossi Purtroppo non ci sarà Molto probabilmente Di Bala Però Chiedo scusa Però potrebbe esserci forse Un debutto di stagione per Ebram Dopo l'infortunio Non dal primo minuto Perché ovviamente non potrà giocare dal primo minuto Ma in gara in corso Sarebbe veramente Molto 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 bello Dovrebbe giocare Baldanzi dal primo minuto Anche se si è fatto male Durante la pausa nazionale Potrebbe invece giocare Di Bala Che si sta riprendendo piano piano Ma non credo proprio che lo rischia Il buon Daniele De Rossi Anche in previsione delle partite Di 3-2 settimane Con 3 Milan in Europa League Per i quarti di finale Passiamo infine all'ultima partita Dove prevede la partita Inter contro Empoli Prevede un risultato Secondo me abbastanza scritto Che è la vittoria dell'Inter Che deve aumentare Il proprio bottino personale Inzaki Vuole andare a vincere Anticipatamente Questo campionato Ovviamente non in questa partita Ma aumentando di punti Ragazzuoli Si avvicina sempre di più La possibilità Di alzare lo scudetto Di alzare la scudetto Di alzare la coppa Dello scudetto Già Forse per il 22 aprile Durante il derby Contro Milan Vedremo ragazzuoli Però bisogna fare punti Bisogna vincere Direttamente Da qui Quindi nessuna Nessun dubbio Dovrebbe esserci Per la formazione Di Simone Inzaghi Quindi vi dico Ovviamente Uno fisso Per l'Inter Ditemelo a questo Nei commenti Ditemi cosa ne pensate Dei miei pronostici Noi ragazzuoli Ci vediamo direttamente Domani Con un nuovissimo video Con i consigliati E sconsigliati Per questa Trentesima giornata Di Serie A Ragazzuoli Vi do solamente Una notizia Dove uscirà Ragazzuoli Sabato Alle ore Una Alle ore Tredici Del pomeriggio Anzi Dell'ora Di pranzo Uscirà Un nuovissimo Un nuovissimo Ragazzuoli Video Di gaming Dove andiamo a giocare Non ve lo dico È una sorpresa Lo vedrete Tutto Sabato Noi ragazzuoli Ci vediamo Tretanto domani Con un nuovo video Niente Ciao Ciao